Nel video precedente abbiamo parlato del matematico Fibonacci, di viaggi nel Mediterraneo, di cifre indo-arabe e della serie di Fibonacci. È proprio da qui che vogliamo partire. Questa successione di numeri è contenuta nel Liber Abaci, pubblicato nel 1202. Tuttavia, è solo nel XIX secolo che biologi, matematici e scienziati hanno iniziato a ricercare questa serie di numeri nella natura, scoprendo non poche ricorrenze. Cominciamo dalle api. Un alveare è composto da femmine, ovvero le operaie con la regina, e da maschi, i fuchi. Le femmine hanno origine da uova fecondate, per cui hanno due genitori, mentre i fuchi derivano da uova non fecondate e quindi da un solo genitore. Partendo da un fuco ci si chiede quanti siano i suoi antenati nelle generazioni precedenti. Quindi ci si chiede quanti siano gli antenati di prima, seconda, terza generazione e così via. Un fuco ha un solo genitore, ovvero una femmina, la quale a sua volta ha due genitori. Questi ultimi hanno rispettivamente un genitore e due genitori. Di questi le due femmine hanno due genitori, mentre il fuco uno solo, e si continua in questo modo. Proviamo ora a controllare queste prime generazioni di antenati, iniziando dal fuco di partenza. Quindi uno, e poi nella prima generazione uno, poi due, tre, cinque, e se continuassi così, otto, tredici, ventuno, e così via. Osserviamo che la serie di Fibonacci regola anche l'albero genealogico di un fuco in un alveare. Concentriamoci ora sulla situazione qui rappresentata. Si può osservare che i lati dei quadrati in figura sono numeri di Fibonacci. Quindi possiamo vedere subito che ogni lato, in questo caso, è la somma dei due adiacenti. All'interno di ogni quadrato disegniamo un quarto di circonferenza e otterremo una figura a dir poco interessante. Questa figura si chiama spirale di Fibonacci. Questa figura la possiamo scorgere in natura molto frequentemente. Per esempio, la possiamo trovare nel guscio di un'acchiocciola, nel nautilus, nelle galassie e addirittura nella traiettoria del volo del falco. Questo rapace deve seguire la propria preda senza mai perderla di vista e nel frattempo scendere di quota. Avendo gli occhi laterali e non frontali è costretto a seguire una traiettoria particolare, proprio la spirale che abbiamo disegnato prima. La successione di Leonardo Pisano è stata trovata anche nelle scaglie delle pigne. Osservando, queste si dispongono in due serie di spirali, una in senso anti-orario e una in senso orario. Se contiamo tutte queste spirali, generalmente ne troviamo 8 in un verso e 13 nell'altro. Due numeri di Fibonacci. Troviamo lo stesso principio anche nelle ananas e nei semi di girasole. Per ultimo, osserviamo il numero dei petali dei fiori. Per esempio, nell'iris ci sono tre petali. In questa rosa canina, 5. Nella margherita, 8. Osserviamo quindi che il numero dei petali generalmente è un numero di Fibonacci. Infatti, quanto è probabile trovare un quadrifoglio? Cosa si dice a chi trova un quadrifoglio? La probabilità di trovarne uno è veramente bassa, tant'è che diciamo che trovare un quadrifoglio porta fortuna. Ti ringrazio di essere qui e spero di averti incuriosito. Se il video ti è piaciuto, like di supporto e iscriviti al canale. Prossimamente nuovi video di matematica. A presto!